Salvo, sono un bot da mouse e tastiera, però le private le gioco da mouse e tastiera per far divertire un po' gli altri. Raga, ma c'è uno? No. È il Kaiser, però! Hai rotto il c***o! È il Kaiser, hai rotto il Kaiser! È sul mio Loddy sta! Ho capito. È sul mio Loddy! Vabbè, otto secondi e spawno. Non si può andare all'Oddy, è però mo' scende l'altro. Oh, sì, ma sono attaccato! È perfettamente lì. Possiamo provare ad andare ecco? Ah, proprio? Giờ faccia sono in passo a continuare, dov'è non è scendio? Non è ecco l'altro